Appena sono entrata ho sentito che era molto freddo, dico oddio, il gatto perché c'era una gatta avrà aperto. Infatti sono andata, visto che era aperto, però ho visto le cose sul letto, sono andata nel salotto ed era spaccata la porta finestra. La Mara scoperta una volta rientrata a casa, vittima del furto, la consigliera provinciale Cinzia Santoni. È successo a Capolona attorno alle 20 mentre la donna si trovava alla tombola di beneficenza per casa Tevinin. Diciamo che quello che mi ha lasciato stupita è stato il fatto che io sono in una serie di villette e sono un capotesta, sto d'angolo. Di fronte alle scuole elementari a Capolona c'è l'illuminazione pubblica abbastanza forte, quindi vuol dire che sono entrati appena fatto buio. Oltretutto devono essere anche un po' acrobati perché non è così immediato, anche se probabilmente sono avvezzi a ciò. Scarzo è il valore della refurtiva, più consistenti invece i danni che i ladri si sono lasciati alle spalle. Più che altro il discorso che trovi tutto fuori posto, da sempre fastidio da un punto di vista intimo perché è come una violenza personale, perché la casa è la casa, ognuno di noi pensa che sia un rifugio sicuro. Come danni reali, niente di che, due catene in argento e un cammeo, perché io non tengo né soldi né niente in casa e questo forse in parte mi ha salvato. Un episodio purtroppo non isolato. Posso dire che forse bisognerebbe riacquisire una sensibilità sociale da parte delle persone, perché molta gente si gira dall'altra parte, siccome i vetri spaccati fanno rumore, e quindi poi non è che vivi nella grande città, ma insomma in una comunità abbastanza piccola, è difficile che nessuno abbia sentito, come sempre, sono curiosi per tutto. Cioè almeno di affacci a vedere. Probabilmente se qualcuno accanto o di fronte si fosse affacciato è molto probabile che sarebbero scappati, come è successo ad Arezzo. Quindi una maggiore consapevolezza sociale che basta delle volte fare un grido, basta delle volte anche senza farsi vedere, chiamare i carabinieri, perché mi hanno detto che uno può fare anche una denuncia indicativa diciamo anonima e quindi la pattuglia sarebbe arrivata.